Sì, Gabbionetta rientra nel gruppo e quindi siamo 22 convocati. Per quanto riguarda la scelta di chi inizierà devo valutare ancora alcune cose, in primis il recupero perché ritengo che d'ora in poi sia fondamentale presentare una squadra che sia al top dal punto di vista fisico perché l'intensità che ha questo campionato è notevole e soprattutto quando ci sono incontri ravvicinati come questo, perché noi abbiamo giocato lunedì sera si può dire, giochiamo sabato e abbiamo anche il viaggio di mezzo quindi ritengo che sia fondamentale presentare una squadra che abbia recuperato bene e quindi questo sarà una componente che terrò presente. Il Grossetto in casa ha fatto molto bene, è una squadra che anche l'anno scorso è arrivata ai play-off, sta confermando quest'anno un campionato importante, è una squadra con delle grandi individualità per la categoria, perché comunque è vero che non ci sarà più nulla, ma un giocatore che l'anno scorso ha fatto mi sembra 13-14 gol, è un centrocampo notevole di qualità, con Consonica, Robbio e quindi è una squadra che è esperta dietro, è davanti gente rapida perché sugli esterni, gente come Sposito, come mi sta sfuggendo il nome, Gioesson è un infortunato, Jobb, un giovane come D'Alessandro che ultimamente sta facendo meno bene, è una squadra che punta a far bene, anche perché credo che il suo sostituto sia, come ho detto prima, questo ragazzo che è entrato con noi l'ultima parte quando si fece male Pinilla, che è Picca, ma che è un ragazzo che conosco, è un austriaco dotato di grande fisicità, è un giocatore che sa giocare molto bene spalla-porta, calcia con entrambi i piedi, vede la porta, è un giocatore ottimo, un ottimo rincalzo, è chiaro che, voglio dire, Pinilla in questo campionato sta dimostrando delle cose straordinarie, quindi per noi quello è un piccolo vantaggio, è inutile nasconderlo. Sì, è una squadra difficile, una squadra che crea tanto, moltissimo, anche se al posto di Pinilla penso che la fine giocherà Pitchelman, che è un giocatore per la categoria importante, loro sono una squadra che creano molte occasioni da gol, creano tante occasioni da gol e soprattutto sono bravi sui calci piazzati, hanno fatto molti gol sui calci piazzati, creano tanto, ma anche è una squadra che soffre tanto, che concede molto e ti fa giocare. Se riusciamo ad essere bravi nella fase difensiva possiamo fargli male nella parte offensiva, perché loro soffrono molto. Sì, sì, sicuramente, loro secondo me è la squadra che sfrutta meglio di tutti i calci piazzati, è una squadra che ha fatto secondo me la maggior parte dei gol sui calci piazzati, è una squadra da te e me soprattutto per questo. Io mi auguro, mi auguro che, non so, sono rimaste 16 partite, se riusciamo a fare tutte le 16 come abbiamo fatto le ultime gare ci lascia da bene sperare, anche se penso che poi le partite più si è vicine a chi è cambiata, più sono più dure.